Volevo chiedere a Marinella Aversa, ufficio stampa del PD per la provincia di Roma, ne ha già parlato e accennato Francesca Puglisi, ma come si può intervenire sulla comunicazione e sull'informazione per costruire una cultura che aiuti a prevenire la violenza contro le donne? Buonasera a tutti, ringrazio ovviamente la Commissione parlamentare, la Presidente Francesca Puglisi e Anna Macri per aver creato questa discussione. Diciamo che una corretta comunicazione e informazione sui fenomeni della violenza di genere sono fondamentali per evitare che si possa arrivare ad una giustificazione anche simbolica dell'accaduto, ad una colpevolizzazione della vittima e in questo libro di Anna si trovano molte situazioni dove si percepisce quanto questo sentirsi colpevole, stare sotto la lente di ingrandimento, acutizzi il dolore delle vittime. I fatti recenti lo dimostrano sempre di più. Prendiamo ad esempio la caccia agli stregoni scatenata dal caso Weinstein. Ciò che è successo sta minando la considerazione che si ha delle nostre lotte quotidiane per i diritti e contro la violenza. Penso a tutte le immagini di presa in giro che stanno invadendo il web, la gallina di Banderas, la gioconda con Leonardo, Lessi, con Rintintin. Penso al gravissimo post del prete di Reggio Emilia che non prova pietà per una ragazzina stuprata. Gira sul web anche un orribile contratto di autocertificazione di consenso in caso di rapporti occasionali perché tutto questo è orribile, le vittime diventano come degli stalker. Allucinante direi questa cosa. È veramente pesante, sì. Dobbiamo fare i conti anche con la violenza che c'è sui social, alla violenza di genere. Quindi servirebbe un codice di autoregolamentazione sulla corretta comunicazione sul tema. Come è stato anche sollecitato nell'articolo 17 della Convenzione di Istanbul. In modo particolare mi vorrei soffermare sull'individuazione di figure apposite ed opportunamente formate che nelle redazioni si occupino delle tematiche di genere, proprio come esistono gli esperti di economia, di finanza, degli esteri o quelli dello sport. Ovviamente tenendo sempre attenzionato il web e i social perché non possiamo permettere la mercificazione mediatica del dolore subita dalle donne abusate. Come PD della provincia di Roma noi abbiamo costituito, insieme anche ad Alessia Bausone, la sezione donne e PD che è diventata centrale nella nostra azione di comunicazione e mette il rispetto dei diritti delle donne come obiettivo prioritario in tutto il partito democratico della provincia di Roma. Noi non possiamo e non dobbiamo permettere che le lotte e le conquiste degli ultimi anni tanto faticosamente ottenute vengano ridicolizzate e sminuite da un mondo che basa la propria bellezza proprio sulle donne. E quindi dobbiamo formarci, fare formazione il più possibile in educare anche all'amore.